Cari amici e fratelli, voglio prima di tutto ringraziarvi e salutarvi tutti quanti con grande affetto. Mi rivolgo ovviamente alla comunità di Treviglio in modo particolare. Rimane nel mio cuore il desiderio di vedervi tutti quanti. Non so quando ciò sarà possibile, però vi porto nel cuore nelle mie preghiere e vi ringrazio sempre per la vostra vicinanza e il vostro affetto che mi avete mostrato in un momento difficile che voi tutti sapete che ha toccato la mia vita e la mia famiglia. Grazie con tutto il cuore per le vostre preghiere. Poi voglio ringraziare Michele per l'invito che mi ha rivolto a poter condividere con voi un pensiero della scrittura e poter così anche un po' accorciare le distanze se vogliamo. Quindi questa mattina, in questa giornata voglio prendere questo tempo per lasciarvi un pensiero, una riflessione dalla scrittura. E questa mattina vorrei parlarvi in modo specifico della funzione e della responsabilità che ognuno di noi ha nell'essere membro della Chiesa o della comunità alla quale si riferisce, della quale è membro. E vorrei subito dire questo, che la Chiesa, la comunità è fatta da persone che sicuramente sono passate da un'esperienza di nuova nascita, di salvezza. E nel momento in cui nasciamo di nuovo, siamo anche parte, diventiamo parte del popolo di Cristo, del popolo di Dio, per cui Cristo è morto. E c'è un riferimento nella lettera ai Corinzi che vorrei leggere dei brevi versi, che conosciamo sicuramente nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 12 e dal verso 12, che dice così. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Quindi da questo possiamo vedere subito che la comunità, mi piace chiamarla comunità, benché rappresenti nel suo piccolo la Chiesa, cioè questo popolo che Dio ha chiamato fuori per poter poi rientrare dentro, però con un cuore rinnovato e con un cuore santificato. Questa comunità, o la comunità di cui stiamo parlando, rimane al centro dello scopo di Dio, non è un ripensamento, non è un ripiego, non è un incidente della storia. La Chiesa, la comunità, è qualcosa che Dio ha voluto, è una nuova comunità, è una nuova comunità di Dio. Anticamente c'era l'assemblea del deserto, c'è il popolo di Israele, quello rappresentava in qualche modo un modello. Adesso c'è la nuova comunità di Dio, che è formata appunto dai salvati, dai nati di nuovo, che provengono da ogni angolo della terra, che non necessariamente sono popolo di Israele, ma che vengono da tante etnie, da tante tradizioni, da tante culture, e quindi nel loro insieme compongono, si compone e viene composta la nuova comunità di Dio. E lo scopo principale, uno degli scopi principali di Dio non è soltanto quello di salvare le persone, gli individui, ma di porre questi individui in qualche modo, in comunione e in relazione gli uni con gli altri. Quindi Dio ha questo scopo di salvare, ma di raccogliere dal mondo un popolo, che poi sia un popolo che proclami, come dice Pietro nella sua epistola, un popolo che proclami le sue virtù, un popolo che sia, come dire, per la sua gloria, che proclami e manifesti le sue virtù. Quindi l'essere parte della comunità è qualcosa di importante, perché ci dà, come dire, una sorta di identità, non identità nel senso della denominazione, ma identità in Cristo, identità come cristiani. Noi molto spesso confondiamo le due cose, no? Diciamo che la nostra identità è la denominazione o il movimento a cui noi aderiamo. Ma l'essere parte della comunità conferisce identità alla persona, nel senso che ci dice che siamo insieme ad altri, che hanno fatto la stessa esperienza che abbiamo fatto noi. E con questi altri e verso questi altri ci viene richiesta la lealtà. Quindi è qualcosa di dinamico, non è qualcosa di statico, non è qualcosa che si può relegare a dei momenti, anche se dei momenti questa comunità ce li ha, però non sono solo momenti, ma dietro c'è una vitalità e una dinamicità che ci identifica e ci distingue da altri. Quindi ci conferisce identità e ci conferisce e richiede lealtà. Quindi è una cosa molto importante. La relazione, diciamo, fondamentale che tiene unite tutte queste identità, se volete, tutte queste personalità, cioè i singoli, è la nostra relazione con Dio. Cioè Dio è alla base della relazione fra i cristiani. Se la nostra relazione con Dio è buona, è soddisfacente, è reale, anche la relazione con gli altri avrà sicuramente una qualità e uno spessore. Quindi noi siamo stati creati e siamo stati poi introdotti in questo corpo perché di fondo, fondamentalmente, basicamente, come si dice, siamo persone, creature comunitarie, cioè siamo fatti per entrare in relazione l'uno con l'altro. Non siamo stati creati per rimanere da soli. Dio stesso si impegna a dialogare con noi, dall'inizio della storia dell'umanità, lo vediamo dalla Genesi fino all'Apocalisse, vediamo che questo nostro Dio è un Dio che parla, che dialoga, che si relaziona, che vuole relazionarsi. Quindi lui stesso è un essere sociale, nel senso che entra in rapporto con altri, non è solitario, non è individualista, non è puntato su se stesso, quindi non è egocentrico. Per cui già in partenza nella natura, nella struttura di Dio, se mi permettete questo termine, c'è proprio la sua indole, quella di entrare in dialogo con gli altri. E lo vediamo appunto nella Genesi, per questa ragione, quando Dio crea l'uomo e la donna, li crea come coppia, questa immagine non è affidata ad un individuo, uno. Questa immagine è affidata all'uomo e alla donna insieme. Quindi questo ci fa capire quanto sia importante, quanto siano importanti le relazioni, quanto è importante coltivare le relazioni all'interno della comunità. Quindi, quando dico all'interno della comunità, voglio poi un po' sviscerare questo concetto di comunità. È qualcosa che va al di là dei semplici incontri comunitari o di quegli incontri dove si discutono affari di chiesa, le cosiddette riunioni comunitarie, e poi si ritornano. L'uomo e la donna, l'insieme, le creature comunitarie, i credenti, che adesso sono stati introdotti nel corpo, nella famiglia di Dio, entrano in relazione con loro, perché sono in relazione con Dio. Difatti, la relazione è così fondamentale e così vitale che anche nella creazione, in Genesi 1,18, ci viene detto che, ci viene fatto vedere in modo molto evidente, che se tutto era buono, l'unica cosa che non era buona, eventualmente, sarebbe stata la solitudine dell'uomo. Quindi Dio dice che non è bene che l'uomo rimanga da solo. Quindi questo è già il sentimento che scaturisce in Dio, che per noi vuole darci e aprirci a queste relazioni, una rete di relazioni. Noi dovremmo essere all'interno di una rete di relazioni, la quale viviamo. Ci sono diverse reti, le reti familiari, la rete comunitaria, lavorativa, sociale. Cioè c'è intorno a noi un mondo col quale ci relazioniamo a livelli diversi, per motivi diversi, però comunque siamo in relazione, non possiamo isolarci. Alcuni lo fanno, e la fine che fanno è una fine molto triste, molto veramente amara. quindi noi dobbiamo comprendere il nostro posto all'interno della comunità, della società, e avere relazioni con tutti. Questo fa di noi delle persone uniche, il fatto di sapere e di sentirci e di reputarci persone che si relazionano con altro, ognuno con la sua specificità, ognuno con la sua importanza, ognuno con il suo valore. Voi tutti, noi tutti abbiamo un valore, perché prima di tutto ce l'ha dato Dio, ci ha dato un valore, ha dato un valore ad ognuno di noi. E poi, ognuno di noi ha un valore perché nello scambio, nello scambio relazionale, possiamo essere d'aiuto ad altri, possiamo condividere valori, possiamo condividere doni, possiamo condividere il tempo che noi possiamo dedicare anche agli altri. Quindi non siamo persone autonome, cioè lei che sono legge a se stessi, ma siamo persone in comunità, dove comunità non mi riferisco e non mi riferirò mai ad un luogo, ad un luogo inteso come comunità, una domus ecclesia, cioè la casa di Dio, dove ci si incontra e definiamo quel luogo la Chiesa. Non fate questo errore, non facciamo questo errore che stiamo perpetuando da generazioni. Noi siamo persone che entrano in relazione, persone in comunità, persone che si incontrano e che devono in qualche modo scambiare e scambiarsi valori, scambiare opinioni, scambiare pareri. Quindi non siamo autonomi, ma persone in comunità. Quindi nel momento in cui Dio viene a salvarci, nel momento in cui realizziamo la nuova nascita, la salvezza per grazia, mediante la fede, noi diventiamo cristiani e apparteniamo a Dio. Questo è il primo step, il primo passo. Apparteniamo a Dio, ma poi apparteniamo anche ai fratelli. Appartengo a Dio, ma appartengo poi ad un corpo, ad una Chiesa, e come Chiesa o comunità continuo a dire, e lo faccio di proposito, non mi riferisco ad un locale, non mi riferisco ad una denominazione, mi riferisco a persone che entrano in relazione, che sono in relazione con Dio e che entrano in relazione gli uni con gli altri. Quindi il mio essere in Cristo vuol dire che sono in Cristo con altri che sono in Cristo. e questi sono dovunque, sono dovunque, non sono relegati ad una nazione, ad un luogo, ad una ragione, ma coloro che sono in Cristo sono i miei fratelli, sono persone con cui io entro in contatto. Quindi questa comunità nella quale entro a far parte e che si viene a formare è una comunità che richiede lealtà. La lealtà è una bella parola, cioè la trasparenza, se volete. Quindi dobbiamo avere nei confronti degli altri, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, dobbiamo principalmente avere, essere leali, trasparenti, essere quello che siamo. Certamente, io sono sempre dell'idea che ciò non significa perché siamo fratelli o siamo leali, essere mancanti di rispetto o di educazione nei confronti degli altri, anzi ne abbiamo bisogno di più, proprio perché sappiamo con chi abbiamo a che fare, proprio perché Dio ha dato valore ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, dobbiamo avere nei loro confronti lo stesso rispetto e la lealtà che ci distingue. Quindi non possiamo fare a meno di entrare in relazione con gli altri e soprattutto con gli altri con cui condividiamo anche una fede, un credo, no? Quindi oggi il percorso è tutto al contrario, anche se i mezzi di comunicazione, i mezzi di collegamento sono veramente spettacolari come quello che sto utilizzando io in questo momento, però tendenzialmente noi siamo votati ad un individualismo, cioè noi preferiamo fare una vita ritirata, una vita un po' privata, che c'è, ci deve essere, ma nei limiti, no? L'individualismo poi ci porta anche a separarci dagli altri, a pensare anche in modo sbagliato che noi forse siamo migliori alla fine degli altri, perché? Ma perché non ci confrontiamo, perché non abbiamo momenti di scambio, perché non mettiamo in gioco le nostre idee, quindi finché stiamo da soli, diciamo così, stiamo bene. Quindi non solo dobbiamo entrare in relazione con gli altri, non solo abbiamo questo impegno di lealtà, ma siamo anche responsabili gli uni degli altri. c'è questo senso di responsabilità. Vi ricordate la domanda che Dio fece a Caino, no? Dopo aver ucciso il fratello, gli chiese dove è Abele, dove è tuo fratello? E lui disse, ma non è che io sono il guardiano di mio fratello? Ed è vero, noi non è che possiamo stare dietro e non abbiamo neanche questa, non è questa la nostra responsabilità, non è questa la responsabilità di cui parlo, ma siamo responsabili nel senso che ci dobbiamo prendere cura gli uni degli altri, ci dobbiamo prendere cura delle membra, del corpo che sono più deboli, che sono più esposte, che sono le più fragili. Tante volte invece la vita, la frenesia, il tram tram, come si dice, della vita, il tram tram della vita moderna ci porta in qualche modo a calpestare, a dimenticarci, a isolare anche questi elementi che richiedono tempo, richiedono attenzione, richiedono cura. È un po' come un ospedale, no? Quando si va lì c'è qualcuno che si prende cura degli altri, lo fa con dedizione, con il tempo, con le parole, con i gesti, con le attenzioni. Quindi noi siamo responsabili gli uni degli altri. E non solo questo, ma siamo anche chiamati a prendere delle decisioni insieme. Questa è una cosa che manca molto spesso nelle comunità. Cioè, solitamente sono alcuni che prendono le decisioni per tanti o per tutti. Ma nella Chiesa, così era, ieri mi sono trovato a parlare con un caro fratello proprio di questo. Nella Chiesa, inizialmente, le decisioni erano comunitarie, dove ancora la gerarchia non aveva preso piede all'inizio, ma lì si parlava della Chiesa che gestiva, si autogestiva e aveva solo dei sorveglianti, no? Non erano, non c'era questa gerarchia, venivano chiamati sorveglianti, cioè gli Apostoli erano lì come punti di riferimento, dove si consultavano, venivano consultati, ma non c'era quest'idea del controllo, del dominio, che poi purtroppo si è sviluppata dopo l'era costantiniana, da quel momento in poi la Chiesa diventa gerarchica. Quindi, insomma, c'è stato un cambiamento, uno scollamento e un distanziamento da quello che era la Chiesa, la Chiesa iniziale. quindi una Chiesa che vede i propri membri responsabili gli uni verso gli altri e che prendono insieme decisioni. A volte non sono facili, però bisogna farlo insieme, come si fa in famiglia, non è che perché sono difficili, il marito, la moglie può esimersi dal prendere o assumersi delle responsabilità o prendere delle decisioni. Bisogna farlo insieme. quindi responsabili gli uni verso gli altri che prendono decisioni insieme ed è un ambiente, quello della comunità, dove ognuno rende conto agli altri. In qualche modo siamo legati l'uno all'altro. A volte ci sono ragioni, momenti, situazioni nelle quali o per le quali veniamo a essere un po' all'esterno, un po' ai margini, perché il lavoro, perché la distanza, perché la salute, perché le necessità di un momento o di un periodo più o meno lungo ci tengono un po' ai margini, però fondamentalmente abbiamo bisogno comunque di relazionarci e di rendicontare a qualcuno, anche se lo facciamo in modo soft, ma quando incontriamo a volte dei fratelli è come se ci confessiamo, è come se escono fuori dal nostro cuore le cose che vorremmo condividere, di cui vorremmo far parte con gli altri. Quindi c'è questa necessità profonda dentro di noi di rendicontare, di relazionare, di spiegare anche a che punto siamo con la nostra vita spirituale. Quindi Dio ci ha fatti come persone in comunità per essere strumenti, veicoli, tramite i quali lui stesso può rivelare la sua saggezza, la sua sapienza, il suo amore. Questo è il motivo per cui la comunità si crea intorno a Cristo, intorno a Gesù. Lui è l'ideatore. Mi piacerebbe conoscere sempre più cosa aveva Gesù in mente quando parlava della Chiesa nel Vangelo di Matteo, quando disse io edificherò le mie Chiesa e le porte dell'Hades non prevarranno su di essa. Qual era il concetto, il pensiero dominante nella mente di Gesù, nel cuore, quando parlava di Chiesa, se è quella che noi vediamo oggi, se è quella che oggi noi abbiamo come modello oppure c'è qualche altra cosa, c'è qualche altra cosa che dobbiamo scoprire, sia come credenti, quindi come vita di Chiesa, sia come anche organizzazione, come modo di vivere questa Chiesa. Probabilmente le cose sono un po' andate in un binario diverso, in una direzione un po' diversa. Non sto qui ora a fare un'analisi di questa situazione. la Chiesa dunque, come ho detto prima, non è qualcosa che si è creata come un incidente, beh, facciamo la Chiesa perché è successo qualcosa, oppure un'opzione. Nel cuore di Dio c'era un disegno, quindi è un disegno che vede venire insieme uomini e donne che credono in Lui, giustificate, salvate, rinnovate, nate di nuovo, che entrano a far parte di questo corpo. voi, io, noi siamo queste persone e il mondo deve poter vedere cosa significa diventare esseri umani nel senso vero del termine perché il cristianesimo Cristo rende in qualche modo umano quello che è di umano non c'era più nell'uomo, scusate il gioco di parole, no? Umanizza il mondo, umanizza, il cristianesimo rende umano o umani le persone, li trasforma, no? E li rende con un cuore, li rende persone in grado di aiutare altre persone e non solo questo. Quindi la nostra identità si trova in Cristo, la nostra identità si compie in qualche modo nella comunità dei credenti, nell'insieme dei credenti e diventiamo noi stessi una benedizione. Anzi, lo scopo per cui noi diventiamo comunità è quello di offrire un servizio, non esercitare potere, non manifestare la bravura nell'organizzazione o nella perfezione delle nostre attività. ma diventiamo una benedizione perché offriamo un servizio e quando parlo di servizio si parla di ospitalità, cure pratiche, visitare le persone, soccorrere le vedove, gli orfani. Questo, dice Giacomo, è la religione e non è lì inteso nel senso negativo del termine come molto spesso la viviamo noi. Offrire un servizio, offrire ospitalità, cura, interesse, tempo, alle persone che noi diciamo di amare. E prima di concludere questa breve riflessione voglio sottolineare ancora e ancora la necessità di fare chiarezza sulle questioni che riguardano il nostro modo di essere, di essere comunità. Molto spesso noi pensiamo di essere comunità quando facciamo il culto della domenica o il venerdì o quello che è giovedì. Noi siamo comunità nel momento in cui entriamo in relazione due o tre entrano in relazione l'uno con l'altro. Siamo comunità dove Dio è il centro del nostro stare insieme, dove due o tre, dice Gesù, io sono in mezzo. Allora il suo essere in mezzo fa sì che quei due o tre diventino comunità, 10, 20, 100, 1000 diventino comunità. Non è il contrario. Abbiamo bisogno di Cristo al centro e poi la Chiesa. La Cristologia è prima dell'Ecclesiologia. Noi abbiamo fatto al contrario, abbiamo fatto la struttura e poi ci abbiamo messo in mezzo Gesù, come il presepe, scusate l'immagine. Abbiamo fatto tutto e poi ci mettiamo il bambinello. Ma non è così la storia. La storia è un'altra. La storia è che al centro di tutto c'è Dio, c'è il suo figliolo che viene mandato, che manda lo Spirito Santo e poi ci siamo noi che siamo strumenti che si affiancano, collaborano con Dio per diventare una benedizione per gli altri. Quindi è importante capire che tutto questo non accade la domenica mattina o in un luogo prestabilito. La comunione è la comunità e la comunione fraterna e possiamo essere comunità dovunque, con chiunque, anche in un luogo, anche la domenica mattina, anche dalle 10 alle 11, ma non solo la domenica mattina, non solo in quel locale e non solo dalle 10 alle 11. Quindi dobbiamo un po' rivalutare e ampliare questo concetto. la testimonianza che mi viene da molti è che le chiese stanno morendo all'interno di uno schema che li sta stritolando e che li sta costringendo a stare lì dalle alle o a fare delle cose e poi però al di fuori di questo non c'è nulla, non c'è niente, non si vede nulla. Quindi, fratelli, cari e sorelle, voglio incoraggiarvi a rivalutare la vostra posizione, a rivedere la vostra posizione e rivalutarla nel senso che voi, noi, abbiamo un compito e una funzione estremamente importante alla quale Dio sta lavorando per farcela comprendere, per farci poi muovere in questo modo. Per cui veramente prego che il Signore apra la nostra mente, il nostro cuore perché possiamo essere quello che Lui vuole. Vorrei concludere con una lettura, sempre nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, dal verso 18, dove ancora parla di questo organismo nuovo, di questa realtà nuova, palpitante che Gesù ha creato attraverso la sua morte ed è proprio la Chiesa. Qui dice ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. l'occhio non può dire alla mano non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che sembrano più deboli sono invece necessarie e quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli le circondiamo di maggiore onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggiore onore alla parte che ne mancava perché non ci fosse divisione nel corpo ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. se un membro soffre tutte le membra soffrono con lui se un membro è onorato tutte le membra ne gioiscono con lui ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso ciascuno per parte sua. Questa è non ha bisogno di commenti questo è il riassunto la somma di tutto quello che ho cercato di dire in pochi minuti ma qui dentro c'è tutto siamo membra l'uno dell'altro non possiamo dire all'altro non ho bisogno di voi le membra più deboli sono quelle circondate di maggior attenzione e addirittura quelle più deboli sono necessarie ci viene detto quindi noi le scartiamo invece Dio le reputa necessarie andate a prendere le membra più deboli andatele a cercare perché Dio le sta cercando e Dio le sta cercando attraverso di me di te sono necessarie e quelle che noi pensiamo le meno onorevoli devono essere circondate di maggiore onore di maggiore decoro quindi pensate l'attenzione che dobbiamo nei confronti degli ultimi o di quelli che nella comunità sono ai margini quindi Dio ha formato tutto ha fatto tutto in modo che ha dato maggiore onore alla parte che ne mancava quindi pensate ha fatto tutto ha fatto un progetto per dare maggiore onore a chi non ne ha a chi ne manca quindi e questo fa in modo che il corpo si mantenga unito in modo che il corpo non ci siano parti che soffrono e altri che invece si sviluppano in modo autonomo se un membro soffre tutti soffrono se un membro onorato tutti sono onorati gioiscono con lui quindi questa è la regola e vorrei dire che su questa regola chi osserva una regola di questa c'è la pace del Signore nel proprio cuore nella propria famiglia nella propria chiesa nelle relazioni con gli altri e questo diciamo il manifesto questo è lo statuto che Dio ha lasciato ad ognuno di noi cari concludo questa breve riflessione spero che sia stata per voi di incoraggiamento che sia di riflessione e che possa partorire anche delle azioni no? delle azioni nei confronti di queste membra di coloro che sono mancanti o sono sono nella necessità e che hanno bisogno di essere di essere cercate e inserite e onorate all'interno del corpo abbiamo un bel compito da fare c'è una bella responsabilità che ognuno ha davanti al Signore io vi abbraccio vi saluto tutti nell'amore del Signore non vedo l'ora di vedervi inutile che ve lo dica ancora l'ho detto a qualcuno con cui mi sono ottenuto in contatto spero al più presto davvero non so quando ma spero al più presto di venire da voi ad avere un bagno un bagno di amore di affetto di fratellanza di cui tutti abbiamo bisogno poi ci sono quelli che ne hanno bisogno un po' di più a secondo delle situazioni Dio vi benedica fratelli cari un abbraccio e un bacio a tutti voi anche a coloro che sono assenti portate i miei saluti a presto Dio vi benedica pace a presto